Situazione meteo di oggi, lunedì 2 luglio su Palermo e provincia. Bel tempo e caldo, vento di tramontana con intensità di 12 km orari, mare poco mosso, temperature massime ancora oltre i 30 gradi. Situazione invariata per domani, martedì 3 luglio, venti moderati e bel tempo, mare mosso, temperature senza variazioni di rilievo.